Mi chiamo Sibilla Barbieri, sono malata oncologica da dieci anni. Ho fatto tutte le cure che mi sono state proposte, anche le linee di trattamento all'estero che ho acquistato carissime, ma purtroppo non hanno più funzionato. Io sono una malata terminale e non ho più tempo. Adesso, conoscendo la sentenza cappato di J. Fabbo, ho provato a chiedere aiuto per il suicidio assistito a casa mia, in Italia. L'ho chiesto alla mia ASL, che mi ha mandato una commissione a valutare il mio caso e che ha deciso che io non rientro nei casi possibili perché, cito letteralmente, non sono attaccate a macchinari di sostegno vitale, ma pochissimi malati terminali di cancro sono attaccati ai sostegni. Tra l'altro le cose cambiano. Questa è una discriminazione gravissima tra i malati oncologici e chi si trova in altre condizioni, anche non terminali. Per questo ho deciso, liberamente e consapevolmente, di ottenere aiuto dalla Svizzera, andando in Svizzera, perché lo posso fare, possiedo i 10.000 euro necessari e posso ancora andarci fisicamente, anche se sono al limite. ma tutte le altre persone condannate a morire da una malattia e che non possono perché non hanno i mezzi che sono sole o che non hanno le informazioni. come fanno? Questa è un'altra grave discriminazione a cui lo Stato dovrebbe porre rimedio. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato. L'Associazione Luca Coscioni, i disobbedienti e ringrazio voi per avermi ascoltato al posto dello Stato.